Sanità, ripartizione Fondo Sanitario 2023 alla Liguria, 3,4 miliardi. Toti, un primo risultato positivo ma insufficiente. I 60 ragazzi spezzini della GMG sono arrivati a Lisbona ma prima tappa al Santuario di Fatima. Presentato il servizio teleassistenza, centroanziani saranno controllati H24. Aumenta la rete di video sorveglianza in Corsocavur, 8 nuove telecamere installate e a disposizione delle forze dell'ordine. Il Museo LIA finisce sulla Radio Nazionale tedesca, un servizio che lo conferma tra i più apprezzati di Europa. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del TLS giornale. Sanità, ripartizione Fondo Sanitario 2023 alla Liguria, 3,4 miliardi di euro. Oggi come conferenza delle regioni abbiamo approvato con il riparto del Fondo Nazionale 2023 alla Liguria, spettano 3,4 miliardi di euro con un incremento rispetto al 2022 di circa 70 milioni. Riteniamo sia un primo positivo risultato, non sufficiente però a coprire i maggiori costi anche dovuti alle spese energetiche. L'auspicio, conclude Giovanni Totti, è che le risorse, come peraltro evidenziato anche dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, vengano implementate per far fronte al fabbisogno di personale e agli oneri contrattuali inflattivi ed energetici. Pur rimarcando la necessità di implementare il Fondo Nazionale, quindi anche la parte attribuita alla Liguria, afferma l'assessore alla Sanità Angelo Grattarola, ieri presente a Roma alla Commissione Sanità delle Regioni, è stata riconosciuta alla nostra regione la peculiarità dei maggiori costi rispetto ad altre per un indice di vecchiaia molto elevato. Siamo ora fiduciosi, conclude che il Governo possa trovare ulteriori risorse da impiegare per rendere più agevole la gestione del servizio sanitario regionale. Le coperture vaccinali delle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica anche in Liguria hanno risentito della pandemia da Covid-19. La Fondazione Gimbe ha riportato anche per la nostra regione un allontanamento in analogia a quanto avvenuto nelle altre regioni. Il miglioramento del quadro pandemico è corrisposto con l'incremento delle coperture vaccinali, iniziato già nel 2021 e che risulta tuttora in corso. La Fondazione Gimbe ha evidenziato la continuità dei servizi vaccinali anche in un contesto emergenziale, quale quello correlato appunto alla pandemia da Covid-19. L'impegno per raggiungere ottimali coperture vaccinali rimane tra gli obiettivi prioritari. Arrivano le prime notizie dalla delegazione spezzina che in questi giorni è a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù, dove assisteranno a dei momenti importanti e di condivisione anche con Papa Francesco. Ascoltiamo le loro impressioni nel contributo che ci hanno mandato. I nostri giovani partiti lunedì dalla Spezia per Lisbona sono giunti a destinazione e stanno partecipando con entusiasmo i diversi momenti previsti dal programma della GMG. Sono oltre 60 accompagnati da alcuni sacerdoti diocesani e stanno vivendo questa esperienza straordinaria assieme a moltissimi giovani provenienti da ogni parte del mondo ed attendono di incontrare il Santo Padre Papa Francesco che li raggiungerà nei prossimi giorni. Prima di giungere a Lisbona i nostri ragazzi hanno visitato il Santuario di Fatima, luogo di apparizioni mariane facendo sosta alle tombe dei pastorelli Giacinta, Francesco e Lucia. In serata sono giunti a Lisbona, dove hanno partecipato alla celebrazione solenne di inizio GMG celebrata dal Cardinal Manuel Cosè Macario Donascimento Clemente, patriarca della diocesi portoghese. Prima dell'inizio della celebrazione sono state raccolte alcune entusiastiche impressioni dai nostri ragazzi, ve le proponiamo. Siamo qui a Lisbona, la giornata mondiale della gioventù. Tra poco si terrà la messa di apertura. Siamo qui con Matille e Don Manrico che ci diranno cosa ha gli spinti ad essere qui oggi. Io ho deciso di partecipare di nuovo alla GMG per la seconda volta, sono già stata a Cracovia nel 2016, ho deciso di replicare questa esperienza e di tornare perché è stata un'esperienza significativa sia per i momenti di preghiera che obbligano così tanti giovani, è bello vedere una spiritualità che obbligano così tanti giovani nel mondo e poi è bello anche poter dividere questi momenti, sono quelle persone già vicine, che conosce, sono nuove persone, nuovi ragazzi. Io sono qui perché mi sono fatto trascinare dallo spirito dei ragazzi. È la mia prima volta alla GMG e potete guardare questo spettacolo che ci sta travolgendo. È stato presentato questa mattina a Palazzo Civico il servizio sperimentale di teleassistenza rivolto a 100 nostri concittadini di età maggiore di 65 anni, adulti con disabilità psicofisica, coppie fragili, over 75, persone sole o che restano sole in frazioni della giornata. Il telesoccorso sarà garantito grazie a un piccolo apparecchio portatile costituito da un pulsante connesso al telefono di casa tramite un apposito dispositivo. Ogni utente sarà collegato 24 ore su 24 a una centrale operativa. Il servizio di Vimalcarlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Al via nel nostro comune un nuovo servizio di telesoccorso, di teleassistenza per la popolazione anziana per rispondere a un bisogno fondamentale, quello di essere vicino alle persone più là con gli anni che sono una ricchezza per la nostra comunità. Assolutamente sì, l'amministrazione vuole stare vicino a tutti, in particolar modo alle persone anziane. Abbiamo iniziato questo progetto sperimentale per le persone che hanno più di 75 anni oppure che vivono con un'altra persona, però una delle due deve avere più di 75 anni. Un modo per monitorare le necessità, per ricordare ad esempio quando prendere la medicina, se c'è qualcosa di particolare che una persona richiede oppure tante volte anche basta sconfiggere la solitudine che è un male dell'anima veramente toccante. Detto questo ci stiamo impegnando in questa sperimentazione proprio per dare un segnale di vicinanza, vicinanza a tutte le generazioni, in particolar modo agli anziani e dare tranquillità anche ai familiari che tante volte non possono stare vicino al proprio caro. Un servizio che per essere costruito ha necessitato di un grande lavoro tecnico? Sì, gli uffici si sono impegnati a dare una platea di persone che potenzialmente potevano essere destinatari di questo servizio. È un servizio che sta vicino alle persone, sta vicino alle famiglie, ma sta vicino agli anziani soli che spesso vivono la problematica del quotidiano e agli anziani che hanno anche delle patologie. Sarà un servizio innovativo soprattutto per la nostra città e la realtà Ligure. Avrà il compito di monitorare, controllare, aiutare, coadiuvare, ma anche semplicemente dare delle risposte nel quotidiano agli anziani che appunto avranno bisogno. Passata la fase sperimentale, il servizio potrà essere steso a una fascia più ampia di popolazione? Sì, ovviamente la fase sperimentale serve proprio a questo, a comprendere e capire quanto possa essere d'aiuto e quanto possa coadiuvare le attività principali che già svolgiamo in presenza. Siamo sicuri che sarà innovativo e che aiuterà moltissimo, quindi passata questa fase la volontà dell'amministrazione è quella poi di ampliare la più grande platea dei nostri concittadini che oggi attualmente sono molti nella nostra città gli anziani e sono molti gli anziani che hanno bisogno. Quindi affiancare i servizi tradizionali con nuove tecnologie per migliorare la vita dei nostri anziani. Aumenta la rete di videosorveglianza cittadina nell'ambito del progetto di riqualificazione installate otto telecamere in piazza Cavour. Le videocamere sono già operative e forniscono 22 nuove inquadrature in grado di visualizzare non solo la piazza del mercato ma anche le vie immediatamente limitrofe fornendo immagini nitide e definite. I filmati, come tutto il circuito di videosorveglianza comunale, sono a costante disposizione delle forze dell'ordine. Ottenuti i finanziamenti per 320 mila euro per i progetti di sviluppo territoriale e riqualificazione del centro storico di Monte Rosso al Mare, i lavori prevedono l'estensione della rete acquedottistica per raggiungere le località di Rondanara, Pietraforte e Vettora. Inoltre il Comune ha ottenuto 180 mila euro per le opere di riqualificazione della viabilità interna al centro storico, incluse opere accessorie. I lavori saranno appaltati e prenderanno il via nel corso dei mesi di ottobre-novembre 2023. Al Pala Hockey di Piazza Terzi a Sarzana è stato aperto il cantiere per la ristrutturazione interna con il rifacimento della pista da gioco che sarà adeguata agli standard della Federazione Sport Rotellistici. Complessivamente la struttura sportiva tra interventi interni ed esterni ha visto un investimento di oltre 350 mila euro. Il cronoprogramma prevede la conclusione di tutti i lavori entro sei mesi. Questa mattina il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha effettuato un sopralluogo. La CISL interviene in merito alla questione del reddito di cittadinanza, norma da salvaguardare e aumentare la formazione dei giovani nel mondo del lavoro. In servizio di Jacopo Ci dà le immagini di Raffaele Maulella. Si continua a parlare della questione reddito di cittadinanza, qual è il vostro auspicio? Sicuramente è una misura che a nostro giudizio va rafforzata per chi ha veramente necessità, quindi ovviamente mi riferisco ai fragili, alle fasce deboli, a chi ha carichi familiari e chi è in condizione ovviamente di non poter accedere al mercato del lavoro. Quindi è una misura che a nostro giudizio da questo punto di vista va sicuramente implementata e come dicevo rafforzata. Per il resto poi bisogna incentivare invece quello che da noi sono anni che chiediamo e cioè quel mercato del lavoro che metta in parallelo domanda ed offerta e che metta in condizioni proprio per la dignità del lavoro queste persone che magari si ritrovano espulse dal ciclo lavorativo di trovare un posto di lavoro che sia un lavoro qualitativamente, quantitativamente che gli consenta di mantenere la propria famiglia, che gli consenta di farsi un futuro. Per quanto riguarda invece Spezia, com'è la situazione? Qui è un fenomeno certamente più circoscritto, parliamo di 2.500 per settori ad oggi però anche qui certamente io credo che ci siano tipologie proprio di lavoro con un'adeguata formazione per questi propri lavoratori che possano accedere di nuovo, come dicevo prima, al mercato del lavoro. Per fare questo certamente c'è bisogno di investire appunto in domanda e offerta e c'è bisogno di investire poi in quella formazione anche continua per adeguare anche le professionalità a quelle che sono le nuove sfide. Si è ricostituito il Comitato Provinciale Cupla, associazione di categoria in campo per i pensionati. Il 26 luglio scorso alle 15.30 presso la sede di Confesercenti alla Spezia si è riunito il Comitato Cupla Provinciale della Spezia al quale hanno partecipato i designati delle associazioni di categoria. Alla riunione è stata approvata all'unanimità la rotazione dei coordinatori designando Mazzilli come primo coordinatore in rappresentanza di Confcommercio che sarà seguito dai rappresentanti di Confartigianato, NPCA, Coldiretti, Confagricoltura, CNA Pensionati, FIPAC e Confesercenti. E ascoltiamo ora i consigli del tenente Andrea Fabi nella rubrica settimanale Possiamo aiutarvi. Tema di questa sera la tecnica dell'abbraccio. Le immagini sono di Davide Morina. Buonasera e bentornati ai nostri incontri con i consigli. Sono il tenente colonnello Andrea Fabi, comandante del reparto operativo Carabinieri della Spezia e oggi vi parlerò della cosiddetta tecnica dell'abbraccio. È una tecnica che i malviventi utilizzano per approcciare la vittima individuata in strada fingendosi vecchi conoscenti e facendo leva sulla paura che ognuno ha di noi di non riconoscere qualcuno e di fare una brutta figura. Quindi si avvicinano, si propongono come vecchi amici, vecchi amici di qualche parente, iniziano a dire ma non ricordi e comunque cercano di avvicinarsi e di carpire la fiducia. Questo perché magari puntano a un abbraccio, da qui il nome tecnica dell'abbraccio, con cui sottrarre il portafogli, sottrarre l'orologio, sottrarre dei gioielli, oppure perché si propongono di accompagnarci da qualche parte e in questa maniera riuscire poi a sottrarci dei soldi o, per paura di quello che potrà succedere, comunque accedere alle loro richieste. Ricapitolando quindi, attenzione ai finti conoscenti senza paura di fare una brutta figura, attenzione ai gesti eccessivamente affettuosi e immotivati, attenzione a non accettare offerte di passaggi o compagnia da parte di persone delle quali non conosciamo davvero l'identità. La radio nazionale tedesca Deutschlandfunk dedica un servizio al Museo Civico a Medeolia, che si conferma così tra i più apprezzati in Europa. L'idea è nata dopo la visita della giornalista della radio nazionale tedesca, Antier Hallorgen, alla mostra Peter Bruegel, il giovane, la crocifissione di Castelnuovo Magra, restauro e confronti. Per ulteriori informazioni si può scrivere a museolia.comune.sp.it Si è svolta al passo dei casoni la tradizionale cerimonia degli Alpini della Valdivara in memoria dei caduti delle guerre. Oltre ai gruppi alpini alla manifestazione hanno partecipato i sindaci di Rocchettavare Brugnato, l'assessore al Comune della Spezia, il comandante dei Carabinieri di Borghetto Vara. Il corteo è stato accompagnato dalla banda musicale filarmonica Giacomo Puccini e alla fine della manifestazione si è tenuta la Santa Messa celebrata da Don Mario Perinetti. Venerdì prossimo, 4 agosto, a partire dalle ore 21, alla Biblioteca Comunale Rina Pellegri ad Arcola si parlerà dell'astronomia ai tempi di Dante con la conferenza di Sirio Negri. A seguire, gli astrofili spezzini metteranno a disposizione i loro strumenti per andare alla ricerca di qualche stella cadente. L'ingresso sarà gratuito, non occorre prenotazione e sabato 5 invece gli astrofili si ritroveranno a San Terenzo al locale La Marinella Bistro per la serata luna una notte sotto le stelle dove si viverà un'esperienza fatta di musica e osservazioni con i telescopi. In questo caso è necessaria la prenotazione con i biglietti gratuiti disponibili sul sito Eventbrite. Si concluderà con Beppe Mecconi e il suo libro Trabastia, Cent'anni di gente comune, la seconda edizione Libri al Chiaro di Luna, Ceparana. L'appuntamento è fissato per venerdì 4 agosto alle 21.15 e sarà introdotto da Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini e assessore alla cultura di Sarzana. Appuntamento presso la sede della pubblica assistenza di Ceparana in Via Feletta e sarà presente l'autore. Doppio appuntamento al pianoforte al Festival Paganiniano di Carro. Si tratta, si inizia scusate il 4 agosto a Varese Ligure all'Oratorio dei Santi Antonio Rocco. Sarà sul palco alle ore 21 il pianista Emanuele De Lucchi. Sabato 5 agosto invece l'evento si svolgerà a Ponzano Magra sul Sagrato del Santuario di San Bartolomeo e vedrà protagonista al piano Flavio Tozzi. Il concerto inizierà sempre alle ore 21. I biglietti possono essere acquistati al botteghino in loco il giorno del concerto. L'intero costa 10 euro, il ridotto 8. Per informazioni si può scrivere a info-sdclaspezia.it Passiamo al calcio. Tempo ormai di avviare la preparazione pre-campionato che anche fra i dilentanti, tra i primissimi a farlo, il Magrazzurri. Servizio di Andrea Catalani. Partita a Luigi Camaiora di Santo Stefano. La preparazione del Magrazzurri al campionato di calcio 2023-2024 di promozione Ligure. Al lavoro, agli ordini del neoallenatore Nanni Putti, una rosa che è composta di una quindicina di novità addirittura. Ce n'è dunque di che trasformare letteralmente persino il parco riserve. Ma cosa verrà mai da dire a un Presidente nel giorno dell'apertura di una nuova stagione? Da dire, naturalmente noi pensiamo positivo perché abbiamo rinnovato sia la struttura tecnica che la rosa, almeno oltre la metà sono nuovi, quindi abbiamo molto da fare per conoscerci e per inforcare un campionato che sia degno del nostro nome, all'altezza della nostra storia. Detto proprio fuori dai denti, l'obiettivo è salvarsi con meno patemi rispetto all'anno scorso? Partiamo da lì, partiamo da lì, scienza a mettere i limiti alla provvidenza. BB Competition è pronta a partecipare al Rally Città di Scorzè, appuntamento valido per la Coppa Rally di zona 4, che vedrà sul proprio asfalto l'Arena Clio N5 di Simone Boscariol, curato in campo gara da Boscarelli Team. Il pilota Veneto sarà affiancato nel ruolo di co-driver da Jasmine Manfredi, da sempre con partecipe delle sue programmazioni sportive. Bene, questa era l'ultima edizione, vediamo insieme le previsioni meteo per la giornata di domani. Al mattino Liguria divisa in due, sul centro ponente cielo sereno poco nuvoloso, a Levante cielo coperto con possibili acquazzoni. Nel corso del pomeriggio sono attese schiarite anche a Levante. I venti, ancora Libeccio moderato teso a largo, irregolare meridionale sotto costa al più moderato. Il mare è previsto molto mosso, le temperature stazionarie. Bene, con questo è tutto anche per questa edizione del TLS Giornale e io vi ringrazio della vostra cortesa attenzione e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Arrivederci.